Avete avuto paura? Ah, manco poco. A me mancavato dieci anni di vita. Atimi di paura nella notte alla Villaggio Oriente, ad Arezzo, attorno alle 23.40, infatti un'intera palazzina, la palazzina alle mie spalle, è stata evacuata per il denso fumo. Due persone sono rimaste lievemente intossicate. Le fiamme sono partite da uno scantinato. Alla loro origine potrebbe esserci qualcosa che è stato gettato all'interno da una finestra, ma ancora si tratta di una ricostruzione in cerca di conferme. Subito dopo il rogo, il fumo che si è sprigionato ha invaso tutto il condominio. È stata così decisa l'evacuazione a scopo precauzionale. Ci ha svegliato di grande fumo? Guardi le gomme che erano. Una ventina in tutto le persone fatte uscire dai vigili del fuoco. Due di loro sono state portate al pronto soccorso dell'ospedale San Donato di Arezzo per i controlli del caso, entrambe in codice verde. Dopo lo spegnimento e la bonifica, in seguito alle verifiche tecniche, i residenti sono stati fatti tutti rientrare comunque all'interno della propria abitazione. Bompieri, cose, misericordie, di tutto c'era. Era una festa paesana. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco e ai sanitari del 118, anche la polizia di Stato per chiarire le cause dell'incendio ed individuare eventuali responsabili.